Allora, buongiorno, siamo a Di Maro, siamo qui col sindaco di Di Maro che, come avrete letto, era ipotizzato forse nella lista dell'UPT come candidato alle elezioni provinciali. In realtà non è così, perché ha preferito rimanere al suo posto come sindaco. Il nostro sindaco Romedio, un'idea sindaco che potrebbe dare a chi si candida alle provinciali. Un'attenzione. Giustamente lei ha detto che ho preferito dedicarmi alla mia comunità e questo lo confermo, anche se non sarebbe stato male il mio coinvolgimento a livello provinciale, perché è anche un po' una sfida di quanto hai seminato e vedere quello che potresti raccogliere dal punto di vista dei voti. Per quel che concerne la politica direi che, secondo me, la politica deve essere più vicina alla gente. Il politico deve sentire la gente, deve aiutarla, deve fare in modo che la distanza tra il palazzo e la gente non esista. Quindi bisogna periodicamente sentire, transitare nelle comunità e non pensare che una volta eletti tutto sia esaurito, ma è il bello di iniziare. Grazie sindaco, infatti domenica l'abbiamo visto proprio sempre in mezzo alla gente con l'accoglienza del nuovo parco e complimenti per la bellissima festa. Grazie 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 Grazie.